Oggi c'è la giornata cubana, non so se si sente, c'è la musica altissima. Stiamo mangiando del pollo, che secondo me dentro c'è o del zumino, non lo so, però è super super buono. Siamo arrivati a Trinidad, abbiamo mangiato in questo ristorante, Plaza Maior, e adesso facciamo un giro. È venuto anche a piovere, ma speriamo che adesso si rimette il tempo. Sono in giro per Trinidad da solo, è un posto veramente bellissimo. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.